Paolo Capone, segretario generale UGL, ad oggi siamo a circa 100 mila domande per il quota 100, 700 mila per il reddito di cittadinanza, si entra quindi nel vivo con i provvedimenti presi da questo governo, come giudica questi dati che sono arrivati fino ad oggi? Sono dati assolutamente lusinghieri, dimostrano alcune cose, intanto per quello che riguarda quota 100 è che ci sono 100 mila persone che hanno avuto la possibilità di scegliere di uscire dal mondo del lavoro non con le regole della Fornero, ma qualche anno prima, questo vuol dire che era un'esigenza sentita, un'esigenza soprattutto rivolta a chi fa un lavoro comodo vicino casa, in un'amministrazione pubblica al chiuso, chi fa il pendolare, chi lavora in luoghi diseggiati, chi ha comunque uno stress durante lavori particolarmente impegnativi o gravosi, ha avuto la possibilità di uscire prima dal ciclo produttivo, è la prima destrutturazione della legge Fornero. Credo che sia una grossa conquista per i lavoratori, è una battaglia che ha fatto la Lega e ha fatto proprio una indicazione che aveva dato anche l'UGL, prima delle elezioni a tutti quanti i partiti del centro-destra e della sinistra e testimonia che malgrado tutte le Cassandre che dicevano che era impossibile, che la volontà politica è superiore anche alla volontà ragioneristica che poteva far prevedere che l'Inps non potesse spendere tutti questi soldi per. Quindi è un risultato che annoveriamo tra i positivi e del quale rivendichiamo un po' la paternità anche perché il sottosegretario Durigon che se ne è occupato fino a prima che facesse il parlamentare era il mio vice segretario della mia organizzazione e quindi ci ha messo quello spirito e quella sensibilità sociale, sindacale che non gli è mai mancata, quindi è positivo. Per quello che riguarda il reddito cittadinanza anche lì siamo intervenuti con un, almeno abbiamo osservato che un provvedimento che interviene su 5 milioni circa di poveri assoluti, ha trovato una risposta molto alta, vuol dire che anche quella era un'esigenza e questa esigenza dovrebbe, e lì siamo un po' perplessi in realtà, produrre un circuito virtuoso a fronte del quale chi chiede il reddito cittadinanza viene avviato verso un programma di inserimento nel lavoro. Questo pensiamo che sia un po' più complicato perché i centri per l'impiego non sono ancora attrezzati, attualmente il centro per l'impiego avvia al lavoro il 2% di coloro che prendono lavoro ogni mese, ogni anno e quindi deve essere implementato, adesso i navigators saranno le figure che saranno in grado di fare il lavoro di scouting delle domande e poi di preparazione dell'offerta, bisogna verificare quali sono le competenze che hanno questi potenziali lavoratori, bisogna verificare dove e come poter compensare quelle competenze che non hanno, è un lavoro un po' complesso, che si riesca a fare nell'arco di 4-8 mesi non ne sono sicuro, però anche lì bisognava mettere mano ai centri per l'impiego ed è stata messa a mano ai centri per l'impiego, bisognava intervenire su una platea di poveri che è estremamente grande e si è intervenuto su una platea di poveri estremamente grande, bisognava incominciare a fare interventi che andassero verso le persone invece che verso l'alta finanza e mi pare che questo è un risultato che apprezziamo di questo governo.